Per esprimere il proprio voto in occasione dei 5 referendum abrogativi, l'elettore dovrà presentarsi domenica 12 giugno al seggio del proprio quartiere con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Le operazioni di voto inizieranno alle ore 7 e termineranno alle 23. Dopo due anni si tornerà a votare nella tradizionale sede all'interno dei plessi scolastici di riferimento per ogni zona di pertinenza comunale. Il 12 giugno ci richiamo ancora una volta nelle une per la consultazione referendaria di questo Paese. Dobbiamo certificare che torniamo alla normalità, anche se le due passate consultazioni, una è stata fatta in fiera nel 2020 e nella fase successiva poi invece fatta negli impianti sportivi, dobbiamo dire che abbiamo eseguito le consultazioni in modo regolare e regolamentare in pratica con grande successo. Questa volta torniamo nei siti tradizionali e dunque il 12 giugno nelle scuole che ormai conosciamo, ma che comunque vale la pena sempre controllare dove ci si abita con la coincidenza dove è il seggio, torniamo dalle ore 7 del mattino alle ore 23 in unica giornata. In questa consultazione si raccomanda la scheda e questa scheda qui, si raccomanda il documento di identità e si raccomanda anche di portare appresso la nostra cara mascherina, che ormai è parte del nostro abbigliamento in pratica, perché in caso di necessità, se ci sono degli assembramenti, ci sono gli organi proposti che la faranno indossare. E dunque si dice che si torna alla normalità come Paese, dunque questa pandemia ci sta abbandonando, almeno in questo periodo, dunque speriamo che non si apparci più e pertanto pensiamo di aver fatto un buon lavoro sia negli anni passati, prima con la fiera, poi con gli impianti sportivi a cui ringraziamo il mondo dello sport, e oggi torniamo nelle sedi tradizionali che sono le scuole del Comune di Pordenone. Per l'elenco dei seggi, le informazioni sul rinnovo o la sostituzione della tessera elettorale e ogni altro dettaglio, vi invitiamo a consultare la pagina web comune.pordenone.it slash referendum